Cominciamo, andiamo a leggere su un censimento che fece Davide. Andiamo a leggerlo, che ci è raccontato sia nel libro di Seconda Samuele e lo stesso fatto è raccontato anche nel libro del Cronache. Che differenza c'è? I libri di Samuele e dei re raccontano la differenza. Non so se vi siete mai domandati, ma ve lo dico adesso. Che differenza c'è tra i due libri del re e i due libri delle Cronache? Che qualche differenza c'è? Allora, i libri di Samuele e dei re parlano dei re di Israele e di Giuda perché a un certo punto, dopo Salomone, il regno di Israele si è diviso in due ed è diventato il regno di Giuda e il regno di Israele. mentre le due tribù di Giuda e di Beniamino facevano, diciamo, il regno di Giuda. Il Dio aveva diviso perché Salomone fu infedele a Dio e fu diviso in due. Quindi a un certo punto nella storia, nel raccontare la storia dei re, si trova diviso la Bibbia. Nei libri dei re vengono riportati fatti sia dei re di Giuda e sia dei re di Israele. Questo è il libro dei re. I libri delle Cronache, invece, sono libri che parlano solamente delle Cronache dei re di Giuda. Quindi vedete la differenza. La differenza sta in questo. che mentre nel libro dei re troviamo i fatti sia dei re di Giuda che di Israele, nel libro delle Cronache troviamo scritti i fatti solo dei re di Giuda. Adesso andiamo a leggere, andiamo a leggere al capitolo 24 di Seconda Samuele. E leggiamo. Or l'Eterno si accese di nuovo d'Ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo «Va e fai il censimento di Israele e di Giuda». E il re disse a Joab, che era il capo dell'esercito e che era con lui, «Va attorno per tutte le tribù di Israele da Dan fino a Berceba e fate il censimento del popolo, per chi io ne sappia il numero». Joab rispose al re «L'Eterno, l'Idio tuo, moltiplichi il popolo cento volte più di quello che è e faccia sì che gli occhi del re mio signore possano vederlo». Ma perché il re mio signore prende egli piacere nel far questo? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re e per andare a fare il censimento del popolo d'Israele. Passarono il Giordano e si accamparono ad Aroer, a destra della città che è in mezzo alla valle di Gad e presso Jadzer. Poi andarono in Galad e nel paese di Tatim-Oshi. Poi andarono a Danjan e nei dintorni di Sidon. Andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Ivei e dei Cananei e finirono col mezzogiorno di Giuda a Beersheba. Percorsero così tutto il paese e in capo a nove mesi e venti giorni tornarono a Gerusalemme. Joab rimise al re la cifra del censimento del popolo. C'erano in Israele ottocentomila uomini forti atti a portare le armi e in Giuda cinquecentomila. E dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo provò un rimorso al cuore e disse all'Eterno Io ho gravemente peccato in questo che ho fatto ma ora, o Eterno, perdona l'iniquità del tuo servo poiché io ho agito con grande stoltezza. E quando Davide si fu alzato la mattina la parola dell'Eterno fu così rivolta al profeta Gad il veggente di Davide Va a dire a Davide Così dice l'Eterno Io ti propongo tre cose Sceglitene una e quella ti farò Gad venne dunque a Davide gli riferì questo e disse Vuoi tu sette anni di carestia nel tuo paese ovvero tre mesi di fuga dinnanzi ai tuoi nemici che ti inseguono ovvero tre giorni di peste nel tuo paese Ora rifletti e vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato E Davide disse a Gad Io sono in una grande angoscia Ebbene che cadiamo nelle mani dell'Eterno giacché le sue compassioni sono immense Ma ch'io non cada nelle mani degli uomini Così l'Eterno mandò la peste in Israele Da quella mattina fino al tempo fissato E da Dan a Berceba morirono 70.000 persone Del popolo E come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla L'Eterno si pentì della calamità che gli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo Basta, ritieni ora la tua mano E questo è quello che Diciamo la prima nota che vorrei farvi notare mentre in cronache in prima cronache il fatto è riportato in questa maniera è riportato all'inizio ve lo voglio leggere solo il primo versetto perché è importante da notare la differenza perché visto che esaminiamo questo passaggio valutiamo anche Allora Prima cronache 21 Allora, primo versetto Prima cronache 21 racconta lo stesso fatto e dice Or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele Mentre Nello scritto di Samuele nel primo versetto c'era scritto Or l'Eterno si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo va e fa il censimento di Israele e di Giuda Quindi la prima cosa che notiamo studiando questi versetti è questa differenza cioè in un punto è scritto che Satana incitò Davide mentre in un altro punto è l'Eterno che incita Davide a fare il censimento sono due cose che apparentemente sembrano sembrano diciamo staccate però vedete come tutta la somma della parola si conferma quindi noi sappiamo che da Dio viene ogni cosa e per il Signore dire che ha operato direttamente nel incitare Davide a fare il censimento oppure ha spinto ha voluto che fosse spinto Davide a fare il censimento attraverso l'opera di Satana è la medesima cosa è la medesima cosa ma questo lo possiamo comprendere noi che crediamo che Dio è sovrano e fa quello che vuole infatti leggendo Giobbe noi vediamo come Satana mette alla prova Giobbe e gli procura tutte quelle sofferenze quelle afflizioni quella distruzione ma è sempre tutto sotto controllo di Dio cioè Dio alla fine che ha voluto nella sua volontà ha voluto che quelle prove capitassero a Giobbe e qui è la medesima cosa quindi perché qualcuno può levarsi e dire vedete che la scrittura diciamo non è corretta perché da una parte dice che è Satana che ha fatto che ha fatto diciamo fare il censimento a Davide mentre dall'altra parte è scritto che è stato l'Eterno ecco questo cosa vuol dire vuol dire che o direttamente o tramite servendosi di Satana la volontà di far fare il censimento a Davide proveniva sempre da Dio comunque capite e questo lo possiamo lo possiamo capire quindi non c'è nessuna contraddizione e lo possiamo capire lo possiamo capire solamente noi che crediamo che Dio è sovrano e regna che da lui proviene ogni cosa capite vedete come la somma della parola poi trova una spiegazione a tutto una somma della parola però credendo che Dio regna perché se uno è convinto in cuor suo che Dio non spinge nessuno attenzione Dio è vero non tenta al male però può fare in modo indirettamente vedete attraverso Satana può fare in modo che quella persona comunque compia una determinata cosa come anche il Dio lo ha permesso anche Adamo ed Eva capite il Dio quando mise Adamo ed Eva nel giardino mise mise diede il comando di non mangiare quell'albero di quel frutto quindi a quel punto non essendoci il peccato che abitava in Adamo e in Eva per poter dare inizio a tutto quello che Dio aveva già pianificato perché tutto quello che è successo e che succederà è già stato pianificato da Dio per dare inizio a tutti c'era qualcuno che doveva tentare ed eccolo là quello era il compito era il compito di Satana capite quindi è sempre tutto tutto è avvenuto sempre perché è il piano di Dio capite è sempre tutto dentro il piano di Dio cioè non succede nulla che non sia dentro dentro il piano di Dio e questa era la prima rilevazione che si può fare diciamo parlando di questo censimento l'altra l'altra cosa l'altra cosa che si nota è che uno si deve domandare vabbè ma Davide ha fatto il censimento dove sta il peccato quindi qualcuno qualcuno ha azzardato può azzardare a dire alcuni motivi ma il motivo più valido ad esempio qualcuno ha detto leggendo Esodo 30 12 in Esodo 30 versetto 12 dove c'è scritto che quando si fa un censimento si deve pagare si devono pagare si deve pagare una quota un mezzo ciclo qualcosa al Signore allora qualcuno dice va bene qui non hanno pagato quella tassa e quindi gli è successo questo grave male però attenzione questo che fosse un male e non hanno pagato la tassa siccome il censimento è durato nove mesi se questa teoria fosse corretta se fosse corretta il peccato sarebbe avvenuto nove mesi dopo tutti avrebbero capito che in questo censimento il peccato è stato scatturito nove mesi dopo e non sarebbe Davide il colpevole che Davide avendo fatto un censimento se fosse stato possibile se fosse stato secondo la volontà di Dio è importante dire questo se fosse stato importante e secondo la volontà di Dio Davide non si doveva pentire anzi dovevano pentirsi quelli che non avevano pagato la loro quota un'altra cosa da notare è quando Davide diede l'ordine quindi non dopo nove mesi si seppe che ci fu il peccato ma subito quando Davide diede l'ordine Joab lo contrastò si oppose si oppose infatti in prima cronache la risposta di Joab il capo dell'esercito di Davide gli disse ma o re mio signore non sono egli tutti i servi del mio signore come dire quindi gli aveva appena dato l'ordine quindi Joab intravedeva in quello che Davide aveva intenzione aveva nel suo cuore intravedeva già qualcosa che non andava bene e cosa è successo è successo che gli ha detto questo ma non sono tutti i servi del mio signore cioè tutta Israele ti obbedisce e hai al tuo servizio sicuramente non c'erano neanche cioè tutti i territori di Israele erano stati conquistati tutta Israele serviva Davide quindi contare gli uomini di guerra a cosa sarebbe servito cioè Joab se lo domandava cioè Joab che quelli erano uomini di guerra le cose le capivano bene che cosa l'errore di Davide stava nel suo cuore stava in quello che lui pensava di fare che la scrittura non ce lo chiarisce ma noi sappiamo che è nel suo cuore infatti lui si pente lui voleva sapere di solito quando si fa il conteggio degli uomini lo si fa per andare in guerra però la questione è questa ma se ma se Israele era già tutta nelle mani cioè tutto il territorio di Israele era nelle mani di Davide delle sue delle sue tribù delle tribù di Israele contro chi doveva andare in guerra cioè contro qualche dissidente dentro Israele no perché tutti servivano Davide ha detto Joab allora voleva allargare forse i suoi possedimenti fuori da Israele e quello anche già non andava bene perché perché non erano terreni che Dio aveva dato a Israele quindi anche pensare quello di espandersi perché si è visto forte in Israele magari il numero di persone di soldati glielo permetteva magari aveva pensato nel suo cuore di espandersi e questo era un peccato davanti a Dio un'altra cosa che possiamo dire che poteva essere il peccato di Davide è quella appunto dell'orgoglio cioè lui voleva sapere quanto era grande Israele il suo Israele lui voleva essere diciamo voleva avere conoscenza dei numeri di quanto il suo esercito era grande e questo era un peccato di orgoglio peccò nel suo cuore Davide e badate bene fu un peccato di orgoglio fu un tale peccato che Dio punisse veramente capite quindi è importante considerare questo quindi allora il peccato di orgoglio se noi ci facciamo la conta quella un'applicazione pratica che adesso riguarda noi se ci mettiamo a fare la conta noi qui siamo 500 siamo 1000 siamo portati a inorgoglierci dei numeri capite cosa che invece non deve essere noi o da soli o in numero diciamo o grandi o in grandi numeri se siamo da soli o in grandi numeri noi dobbiamo comunque stare attaccati alla parola di Dio dobbiamo stare legati alla verità non importa se tu rimani l'unico uomo sulla faccia della terra a credere in quello che sta scritto oppure che se siamo 3 miliardi su 6 che crediamo nella verità ben vengano i numeri non è che noi non li rifiutiamo allora guardate bene noi non li rispingiamo i grandi numeri ma non ci appoggiamo su di essi perché questo può creare una situazione di peccato e davanti a Dio da notare cioè perché mi sono preoccupato perché il peccato di Davide nel fare questa conta nel nella sua nel misurare la sua grandezza il peccato che ha commesso Davide è stato grave agli occhi di Dio cioè mentre poteva essere un peccatuccio da nulla per gli uomini davanti a Dio quel peccato fu grave quindi soprattutto da parte di quelli che diciamo sono chiamati ad avere un compito un incarico dentro la Chiesa di responsabilità è gravissimo fare la conta perché stai dando innanzitutto un messaggio un messaggio con questo non vuol dire che tu non devi sapere di dove sono i fratelli ma fare una vera e propria conta creare comunque un sistema visibile dove c'è una conta un conteggio dove si evincono dei numeri che ti possono far inorgogliere far vedere la grandezza la tua grandezza della tua comunità può essere un peccato grave tu non devi guardare ai numeri quando si è in pochi e non devi guardare ai numeri quando sono in tanti ai numeri non si deve guardare mai questa è la volontà di Dio perché dietro a questo c'è in agguato sempre l'orgoglio e se mentre un fratello può non peccare perché non gli interessa però se uno prepara una lista uno può non peccare ma l'altro potrebbe peccare gli altri possono peccare quindi la lista non si fa in nessuna maniera in nessuna ragione noi siamo contrari alla lista degli altri e non ne produciamo di nostre non teniamo registri dove teniamo indicati i nomi di quelli che sono d'accordo con noi di quelli che fanno parte della nostra comunità ponendo l'esempio adesso se noi un giorno abbiamo qualcuno avrà la comunità non si deve mettere lì a fare i conteggi perché commetterebbe commetterebbe può commettere lui o chi gli sta vicino comunque può commettere dei peccati gravi cioè l'orgoglio badate bene è un pericolo sempre l'orgoglio ha fatto cadere Satana ha fatto cadere Satana l'orgoglio ha fatto cadere qui anche Davide confidare nelle proprie forze in quello che uno ha nel fare i conteggi di quello che tu hai può essere un peccato d'orgoglio grave davanti a Dio e se ne paga poi la conseguenza ed ecco per questo io considerando avendo considerato sapendo che c'erano questi passaggi facendo questi ragionamenti che non li sto facendo adesso li ho già fatti e tutta quella storia che è successa sulle bandierine su una mappa europea praticamente mi ha fatto saltare dalla sedia e mi ha fatto preoccupare ma non tanto per me che io non faccio liste e non sono favorevole ma è comunque un pericolo per tutti a cominciare proprio dal fratello che l'ha fatta io che ne so del suo cuore effettivamente io non lo vedo però ho avvertito il pericolo quindi per il bene suo per il bene di tutti i fratelli e per il bene anche mio per ultimo perché perché Dio mi dice ma tu sapevi quelle cose non le dici rendevo conto pure io quindi allora ognuno quindi è spinto a fare quello che quello che quello che diciamo deve fare e lo deve fare nella maniera che ritiene più opportuna anche chiarendo ogni ogni situazione che poi è emersa sono emerse delle situazioni che abbiamo chiarito sono emerse situazioni che Dio ringrazia Dio perché perché sono emerse queste situazioni e hanno permesso di poter parlare di queste cose che magari non avrei mai avuto mai non lo so non avrebbe potuto in altro modo però si vede il Signore spingermi a parlare ma si vede che bisognava parlarne adesso cioè può darsi che il Signore voleva dire basta con questo perché alcuni stanno riponendo la loro fiducia nei numeri e non è giusto e quindi grazie a Dio le cose succedono e dobbiamo adattarci il peccato di Davide fu grave davanti a Dio fu fu un'azione stolta perché perché aveva smesso di confidare in Dio e aveva iniziato a confidare nelle sue forze nel numero del suo esercito capite per fare che cosa non ci è dato sapere per solo per fare un conteggio e guardare la sua grandezza o perché voleva preparare un allargamento dei suoi territori magari invadere l'Egitto invadere altri territori al nord oppure l'attuale verso la Giordania che non è quella parte che non era stata data a Dio capite invadere magari Moab invadere altri territori che non erano Ammon che non erano stati dati da Dio a Israele cioè poteva essere anche quello quindi una mania di grandezza che nasceva nel cuore di Davide capite e quel peccato fu grave quel peccato fu grave davanti a Dio infatti ne morirono 70.000 non è che morirono quelli giusti morirono i malvagi eh badate bene quelli che magari si erano inorgogliti anche loro oppure il Dio era già di ratto con il popolo di Israele e ha fatto in modo vedete per punirlo ha fatto in modo che ha fatto in modo che ci che Davide facesse quel censimento eh si inorgoglisse e poi Dio eh punisse il popolo di Israele in tutto questo vediamo il cuore vedete anche se e non è che sfugge agli uomini infatti Joab e tutti i capi dell'esercito si opposero a Davide badate bene un altro peccato che commise Davide fu appunto la sua stoltezza perché chi ascolta i consigli è savio quando Joab si è opposto e i capi dell'esercito si gli ufficiali dell'esercito si opposero Davide se era un uomo diciamo se in quel momento non era diciamo non si insuperbiva avrebbe dovuto ascoltare i consigli avrebbe dovuto dare retta cioè riflettere sulle motivazioni veramente perché dopo ha riflettuto dopo quando ha commesso il fatto Davide diciamo provò un grande rimorso nel proprio cuore quindi ci fu una riflessione però fu tardiva e le conseguenze vennero si pentì capì che aveva sbagliato aveva sbagliato a sentire quelle cose nel suo cuore e aveva sbagliato anche a non dare ascolto a quelli che aveva vicino e che si opposero ma perché vuoi fare questo qual è il motivo non c'era motivo voleva dirgli cioè come come devi parlare con un re non è che gli puoi dire no non lo faccio a un re devi stare attento a come parli quindi devi magari se tu riconosci che sta sbagliando devi cercare di dirgli in una certa maniera cosa che ha tentato di fare Joab ma poi dopo Davide fu così insistente ed essendo il re Joab ha fatto quello che quello che Davide gli ha ordinato ma attenzione da quando Davide diede l'ordine Joab capì subito che era un peccato infatti dice dice perché il mio signore domanda egli questo perché rendere così Israele colpevole cioè ancora non era iniziato il censimento capite quindi questo ci fa capire che Davide aveva già nel suo cuore il peccato era già presente cioè l'intento di Davide era sbagliato era già peccato e Joab i consiglieri Joab gli altri capi dell'esercito avevano cercato di opporsi ma ma diciamo senza senza riuscirci dopo hanno dovuto lo stesso fare il censimento e poi è successo che Dio ha punito il popolo di Israele e quindi bisogna stare attenti bisogna stare attenti ai numeri ma questo è un argomento molto importante badate bene perché è difficilissimo trattenersi da fare le conte quando tu vai in una comunità e vedi semi vuota e la vedi semi vuota ma se tu entri nella tua comunità dico e la vedi piena tu vedi la tua comunità piena e ti fa effetto capite fa effetto perché l'uomo è fatto in questa maniera quindi se tu fai un conteggio vedi tutte le sedie piene tu sai che hai messo 300 sedie tu sai che sono 300 stai facendo i numeri e lo fai velocemente un pastore fa i conteggi però se li fa inorgogliendosi nel suo cuore con superbia allora pecca davanti a Dio perché non sta riponendo la sua fiducia in Dio ma la sta riponendo su altre cose cioè lui si sente forte per i numeri e non perché Dio è con lui capite ecco questo è importante che questo questo che è successo a Davide nel censimento poi siamo in grado di applicarlo anche alla nostra vita pratica quindi per quanto riguarda diciamo i numeri i numeri dei fratelli dei credeti quelli che sono d'accordo con noi non vi venga il desiderio di fare le conte perché comunque l'importante è che sia il Signore con noi che poi siamo in due o siamo in diecimila e Dio ci dà la vittoria capite la vittoria non appartiene al numero né ai cavalli né ai carri appartiene a Dio mi hanno detto anche da poco che un fratello gli ha detto gli ha detto gli disse un pastore che veniva dall'altra parte del tirreno gli disse guarda che noi siamo quattrocento voi quanti siete cioè capite che se uno guarda i numeri certe parole ti spezzano le gambe invece tu devi imparare a lavorare per il Signore quando i numeri sono pochi dieci cinque venti quelli che sono e poi devi lavorare nella stessa maniera quando i numeri sono tanti quando sono pochi non ti devi scoraggiare e quando saranno tanti non ti devi inorgoglire devi stare attento perché nel momento in cui ti inorgoglisci nel tuo cuore e guardi gli altri che sono di meno con occhi dall'alto in basso e li disprezzi vada bene tu stai peccando gravemente è un peccato grave di orgoglio e Dio ti punirà quindi queste cose bisogna saperle farle proprie non si possono ignorare ecco adesso che ci penso mi aveva fatto diciamo prodotto un cattivo sentimento sentire dal fratello dirmi che un pastore gli ha detto che loro hanno ragione perché sono in 400 e tu sei solo 10 20 quanti sono capite ma non è così allora ho dovuto incoraggiare il fratello ma non sono i numeri anche perché i numeri non ci appartengono i numeri non sono nostri perché per il Signore erano 120 va bene appena iniziò il giorno della Pentecoste diventarono più 3000 in un giorno solo allora se noi li guardavamo in mezzo ai giudei che erano milioni no se io se un fariseo gli diceva a un cristiano ah voi siete solo 120 che cosa avete cioè siete nell'errore perché siete solo 120 noi siamo un milione però guardate cosa è successo il giorno della Pentecoste Pietro parlò e 3000 si convertirono vedete qui da 120 già 120 era un numero ma da 120 a 3000 capite per il Signore non ci vuole nulla a passare ai grandi numeri e quindi noi dobbiamo essere pronti dobbiamo sapere quali siano bene i ragionamenti che dobbiamo fare nel caso dei numeri minimi ma anche nei numeri grandi bisogna stare attenti quindi bisogna fare attenzione ecco perché bisogna capire anche questo tipo di discorso ed è giusto parlare anche di questo che è scatturito la stoltezza quindi l'orgoglio e la stoltezza di Davide furono il suo peccato nel suo cuore perché Dio vede il cuore in quel caso anche Job lo vide i propositi di Davide non gli piacquero perché sapeva che Israele si rendeva colpevole davanti a Dio e avrebbero diciamo avrebbero pagato tutti pagato per che cosa per un errore di chi per un errore del re del capo del popolo ecco qui voglio voglio innescare un discorso guardate bene che se sbaglia un fratello sbaglia un fratello un semplice fratello ma quando sbaglia il pastore quando sbaglia l'anziano quando sbaglia un re alcune volte può essere che il danno lo paga la comunità è scritto anche che il capo della famiglia è l'uomo va bene quindi il capo della famiglia gli anziani e il pastore governano la comunità ecco quando sbaglia un semplice membro della famiglia quando sbaglia un semplice membro della chiesa sbaglia un semplice membro e paga lui le conseguenze ma vi dico questo questo per dirvi a coloro che pensano e vogliono essere responsabili o sono responsabili di un gruppo ed è importante questo oppure che hanno una famiglia sappiate che il capo famiglia se sbaglia ne può pagare la conseguenza la sua famiglia se sbaglia un anziano se sbaglia un pastore ne pagherà la conseguenza la comunità può pagare la conseguenza la comunità quando sbagliava Davide cosa succedeva ad Israele che era il capo di Israele che era il re di Israele capite e questo sapere anche queste cose sono cose importanti perché talvolta possono succedere delle cose magari uno dice vabbè perché stanno succedendo magari stanno succedendo appunto quando in quella comunità quando un pastore sbaglia magari ci sono scissioni un gruppo se ne va ci sono quelli che diciamo smettono di seguire il Signore capite ma c'è uno scandalo fatto magari dal pastore o dall'anziano o da comunque chi governa quella comunità e questo è cosa voglio dire con questo voglio dire che il comportamento degli anziani il comportamento di chi diciamo è più in vista di altri che ha incarichi magari dentro un gruppo una comunità anche la famiglia è un comportamento che diciamo deve essere più attento perché possono derivare anche delle conseguenze delle conseguenze ad altri non solo a te come poi è successo a Davide perché non è lui che ha pagato qua anche quando comise il peccato di adulterio di fornicazione scoppiò una guerra ci furono altri figli suoi morti scoppiò una guerra ci furono tanti tanti morti capite perché perché lui peccò vedete quindi anche questo fa parte del consiglio del consiglio di Dio perché chi ha un compito di responsabilità in un gruppo è più responsabile e ne pagheranno la conseguenza anche gli altri capite purtroppo purtroppo nella scrittura leggiamo è così succede anche è successo anche questo quindi ancora oggi dobbiamo fare attenzione perché può succedere questo e volevo anche citarvi un altro una parabola adesso andiamo nel Vangelo di Luca dove si evince per farvi capire cosa è la stoltezza perché Davide peccò lui lui stesso si dichiarò di aver fatto di aver avuto un comportamento stolto la stoltezza è diciamo compiere qualcosa senza l'intelligenza spirituale che nel mondo nel mondo biblico nell'ambito biblico è quella di essere secondo la volontà di Dio quindi quello che ha fatto quella stoltezza priva di intelligenza spirituale fatta da messa in atto da Davide è stata messa in atto con stoltezza perché non ha ascoltato i consigli quindi chi non ascolta i consigli è un uomo stolto che l'uomo savio ascolta i consigli invece l'uomo stolto li disprezza i consigli allora Gioab e gli altri capi dell'esercito hanno cercato di comunicare di frenare di fermare di far riflettere Davide e non ha ascoltato i consigli si è comportato in maniera stolta quindi anche qui vedete fratelli guardiamoci dal fatto se ci dicono qualche cosa ci danno dei consigli non dico che per forza di cose debbano essere tutti esatti e giusti ma almeno dobbiamo fermarci a rifletterci su dobbiamo rifletterci su perché non riflettere sui su determinati consigli soprattutto se ci dicono guarda che questo non è buono tu sei sicuro che quello è buono se sei sicuro va bene ma se non ne sei sicuro ti stai comportando in maniera stolta se non ti fermi e non esamini le cose come come devono essere fatte alla luce della parola di Dio quindi uno stolto è anche arrogante gli arroganti quelli che ripongono la loro fiducia magari nei loro beni di solito gli arroganti i superbi sono quelli che sono in una posizione elevata oppure hanno i soldi sono persone ricche sono persone che hanno una maggiore cultura degli altri sono persone arroganti superbi però questa arroganza e questa superbia secondo le scritture viene chiamata anche stoltezza perché non agiscono secondo la volontà di Dio come piace al Signore quindi sono privi di quella intelligenza spirituale che viene da Dio sono privi di quella sapienza spirituale che viene dall'alto anche se uno ha tanti titoli ma è privo dell'intelligenza di Dio ed è per questo che molti hanno studiato hanno studiato tanto ma non non conoscono le scritture non la intendono non gli è dato perché alla fine i loro studi è una forma di inorgoglimento e sono e sono degli stolti cioè il fratello semplice che magari non ha fatto non ha studiato il greco non ha studiato l'ebraico non ha studiato magari neanche tanto l'italiano ma legge e capisce quello che c'è scritto perché Dio glielo dà perché ha un cuore umile quindi vale di più davanti a Dio una persona povera umile che si limita a leggere a capire quello che c'è scritto di uno che ha fatto tanti studi e poi dopo si inorgolisce in cuor suo comincia a modificare i significati comincia a interpretare no questo non vuol dire così questo altro non vuol dire così perché così succede e questa è la stoltezza è l'inorgoglimento la superbia per quanto riguarda invece un esempio di stoltezza un altro esempio per farvi capire cosa significa comportarsi in maniera stolta cioè in maniera non intelligente lo leggiamo in una parabola in una parabola nel Vangelo di Luca al versetto capitolo 12 al versetto 16 Luca 12 versetto 16 e disse loro questa parabola la campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente ed egli ragionava così fra sé medesimo che farò poiché non ho dove riporre i miei racconti e disse questo farò demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia anima tu hai molti beni riposti per molti anni riposati mangia bevi godi ma Dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio qui essenzialmente questa parabola Gesù la racconta per spiegare l'avarizia va bene io più che altro lo voglio citare dal punto di vista della stoltezza quest'uomo era un uomo stolto perché perché il Dio gli aveva donato gli aveva fatto crescere tutti quei beni chi è che fa crescere chi è che ci fa abbondare nei raccolti è Dio e lui era uno stolto perché non pensava nel suo cuore minimamente a Dio né ha detto va bene ho avuto un'abbondanza di raccolte e aiuterò una parte la dedicherò ai poveri non ha fatto niente di tutto questo ragionamento ha badato solo a se stesso era un avaro e si è inorgoglito ha fatto il conteggio anche lui di quello che aveva mentre Davide misurava la sua grandezza dal punto di vista dell'esercito numerico e della sua forza in battaglia e in guerra questo ricco qui misurava il suo avere in base al raccolti che aveva e si era insuperbito lui parlando con se stesso ha fatto tutti questi ragionamenti anima mia tu hai molti beni riposati mangia bevi godi ma non c'era Dio nei suoi pensieri non c'era niente che riguardasse Dio infatti lo stolto dice in cuor suo Dio non c'è quindi quando nel cuore di un uomo non è presente il Dio non parla non medita non riflette su Dio è un uomo stolto come era questo anche nei piani che Davide ha fatto anche nei piani che Davide ha tenuto per insuperbirsi per inorgoglirsi c'era la stoltezza nel suo cuore c'era si è voluto far grande guardando a quanti a quanti uomini aveva pronti per la battaglia che erano in grado di scendere in battaglia quindi si sentiva sicuro si sentiva vincitore si sentiva potente Davide si sentiva potente perché perché aveva nel aveva tutti quegli uomini che erano pronti ad imbracciare le armi per combattere quindi si sentiva o più sicuro dall'invasione nemica o voleva a sua volta invadere altri territori che Dio non gli aveva dato oppure semplicemente voleva fare la conta di quello che lui aveva in casa sua del numero dei soldati che poteva chiamare alla guerra e quindi inorgogliendosi per questo ecco questi erano i veri peccati il motivo per il quale Davide peccò e in tutto questo ha messo in atto a causa del suo cuore ha messo in atto un comportamento stolto un comportamento che non teneva conto assolutamente di Dio come anche ha fatto Enrico nella parabola che abbiamo letto che ha raccontato Gesù in tutto il suo discorso nelle sue riflessioni nei suoi pensieri non è andato per un attimo un ringraziamento a Dio e neppure ai poveri capite perché era avaro in quel caso il motivo è che era avaro però anche l'avarizia vedete lo portò a fare un ragionamento stolto ad essere stolto perché ragionare mettere nei propri ragionamenti o meglio scusate non inserire nei propri ragionamenti di qualsiasi cosa siano il Dio è un ragionamento stolto in tutto quello che noi facciamo il Dio c'entra in tutto anche al lavoro quando noi andiamo a lavorare è Dio che ci dà la sapienza per lavorare la forza capite quindi in ogni nostra via noi dobbiamo mettere in mezzo il Dio e Dio è il principale artefice di tutto la nostra vita quindi Dio deve esserci sempre presente non lo dobbiamo tralasciare mai in nessuna maniera capite sia nei lavori rischiosi che anche quelli d'ufficio seduti tranquilli qualsiasi cosa perché magari uno dice vado nelle impalcature a 100 metri d'altezza rischio allora prego il Dio certo fai bene Dio ti protegge ma lo devono fare anche quelli che vanno in ufficio e non rischiano anche se c'è l'ufficio sotto casa che non vanno non prendono neanche la macchina scendi entri in ufficio e lavori anche lì tu devi ringraziare Dio per il lavoro che fai per la sapienza che ti dà nel lavorare o la forza fisica quando c'è bisogno anche di forza fisica per certi lavori quindi è stoltezza vadate bene essere privi di intelligenza il tenere fuori dalle nostre vie il Signore assolutamente è una cosa che non si deve fare quindi vedete dobbiamo tenere lontano da noi la stoltezza la follia la ribellione e considerare il fatto che il Dio non ci dà la vittoria perché perché siamo forti noi o perché abbiamo fatto degli studi o perché siamo numericamente superiori agli altri e Dio ci dà la vittoria perché noi ci inginocchiamo davanti a Lui e gli diciamo Signore aiutaci in questa cosa è così che viene la vittoria tutte le vittorie vengono così in ginocchio così dobbiamo sapere riconosciamo così che è Dio che ci concede che ci concede la vittoria quindi questo era il messaggio che ringrazio Dio che ci ha dato anche la possibilità di parlare di questo col fatto diciamo che è successo quindi ogni cosa coopera per il bene di quelli che amano il Dio quindi alla fine non è successo nulla c'era bisogno di chiarimenti però alla fine tutto è utile affinché si ragioni anche su determinate cose non è successo nulla in pratica solo bisogna stare attenti quindi io finisco la mia diciamo esortazione a tralasciare tutto quello che può riguardare una cosa numerica tenetevi solo la lista di preghiera volete fare una lista buona fate una lista di preghiera vi scrivete i fratelli lì e pregate singolarmente per ciascuno di questi non per tenerla come lista per sapere quanti siamo ma perché quando ci mettiamo in preghiera non ne dobbiamo dimenticare neanche uno ecco allora lo scopo è chiaro e preciso capite mentre magari quello delle bandierine dà più l'idea della nostra della grandezza della grandezza di un movimento di un risveglio cosa che non va bene non va bene tanto ci arriviamo lo stesso a sapere se c'è qualcuno a Milano a Torino a Ravenna a Palermo dove uno è a Roma tanto ci arriviamo lo stesso a passargli i numeri a passare tutto quindi in base alle distanze ci arriviamo piano piano secondo la volontà di Dio ci si arriva e questo era il messaggio che volevo darvi adesso potete anche fare delle domande aggiungi su qualsiasi cosa sempre sull'argomento oggi ci dedichiamo a questo a Dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amin